Buonasera, benvenute e benvenuti. Buonasera, benvenuti. Spero che mi possiate sentire, mi possiate sentire bene. Sono molto contento di essere qui, ottimo, grazie. Sono molto contento di essere qui. Io sono Andrea Boni, sono il coordinatore didattico del Dipartimento di Formazione in Counseling del Centro Studi Bactivedanta. Questa sera passeremo circa un'ora insieme, 45 minuti più qualche minuto per rispondere alle domande. E sono molto contento di poterlo trascorrere insieme a voi, perché parleremo di un argomento davvero importante all'interno dei percorsi formativi del Centro Studi Bactivedanta. Un percorso formativo che già era importante prima, ma sta diventando importante oggi, in questa società, in questo 2021, adesso. Ma in un anno davvero importante, in un anno davvero difficile che abbiamo vissuto insieme e che sembra non terminare ancora. E chissà quanto tempo ancora lo porteremo avanti. In particolare, parleremo insieme della figura dell'assistente spirituale all'interno del modello Bactivedanta, della nostra scuola di formazione in counseling. E cerchiamo di capire chi è, cos'è, come può essere una figura di riferimento oggi nella società. E lo faremo all'interno della visione filosofica e psicologica della scienza dello yoga, ed in particolare del sistema Sankhya Yoga, che costituisce la base teoretica fondamentale attorno al quale si sviluppano poi tutti i percorsi formativi del Centro Studi Bactivedanta. Percorsi formativi che sono nati da una visione, da un'idea di Marco Ferrini, il fondatore, presidente del Centro Studi Bactivedanta, quando ha sentito il bisogno, la necessità di portare in modo concreto, qui, nella società di oggi, in Occidente, dei principi, degli insegnamenti che formalmente provengono da un altro mondo, da un altro modello, da un'altra visione della vita rispetto a quello occidentale, ma che allo stesso tempo veicolano valori e principi che sono estremamente fondamentali per l'Occidente. In realtà oggi parlare di Occidente e Oriente è un po' difficile, poiché nell'era della globalizzazione troviamo un appiattimento dei valori fondamentali. E anche l'India, da cui provengono gli insegnamenti che questa sera condividiamo insieme, sta di fatto vivendo negli ultimi, io direi negli ultimi vent'anni, una trasformazione radicale. e chi è stato con noi in India ha visto nel corso degli anni una trasformazione velocissima che ha portato sicuramente ad alcuni aspetti apparentemente importanti dal punto di vista della modernità, delle infrastrutture, delle autostrade, delle strade, eccetera. Allo stesso tempo anche una perdita di quei valori fondamentali collegati all'umanità, collegati alla spiritualità. In particolare la prima volta che sono stato in India è stata nel 2002 e già l'India aveva subito una trasformazione molto importante. ma devo dire che poi in tutti i successivi viaggi fatti all'interno del Dipartimento dei Viaggi dell'Anima del Centro Studi Bactivedanto ho testimoniato proprio una trasformazione davvero incredibile con costruzioni, cemento che sorgevano in un modo velocissimo, repuntino, ma anche con il dissolversi di quei profumi, di quei suoni, anche di quei vestiti, di quei colori che prima erano ben presenti. E quindi anche tutto quello che le accompagna, che è la caratteristica fondamentale della visione spirituale e filosofica dell'India, che è oltre un sistema religioso, è molto di più, è un sistema filosofico, è un sistema spirituale e che ha caratterizzato proprio l'India nel suo insieme per tanti secoli e che ha garantito anche all'India di poter trapassare, quindi come dire, oltrepassare invasioni anche forti, quella musulmana, quella inglese, e mantenere forti i valori, i valori fondamentali. Ma gli insegnamenti ci sono e Marco Ferrini ha fatto questo, ha veicolato quegli insegnamenti in una scuola, che è la scuola del Centro Studi Bhaktivedanta, che adesso è diventata una università popolare degli studi indovedici, in cui in diversi rami, che vanno proprio dallo studio delle scienze tradizionali dell'India, alla formazione insegnanti yoga, alla cucina, al counselling, veicolare proprio questi insegnamenti e farli propri e portarli nella vita, nella vita di tutti i giorni. Perché c'è bisogno, perché c'è bisogno di valori, perché c'è bisogno di ritrovare una umanità, una centratura spirituale, che ripeto, è oltre una centratura religiosa, è soprattutto filosofica, esistenziale, progettuale. Ed è proprio qui che si situa la figura che condividiamo oggi come figura di riferimento, quella dell'assistente spirituale. Anche perché in un mondo dove i termini vengono talvolta distorti, spesso anche questo termine viene utilizzato in modalità diverse. Allora, nel contributo che noi portiamo questa sera, cerchiamo proprio di veicolare il significato di questo termine assistente spirituale all'interno della tradizione che seguiamo, all'interno della tradizione che cerchiamo di veicolare, che è proprio quella Bhaktivedanta. E perché è così importante? È così importante perché gli esseri umani passano attraverso periodi di grande difficoltà fisica o emotiva. Pensiamo per esempio al fine vita, o pensiamo anche a come ci troviamo spesso ad attraversare situazioni di gravi difficoltà personale, relazionale, sociale, economica, sanitaria, come quella che stiamo vivendo oggi. E in questo senso l'assistente spirituale, per come lo intendiamo noi, per come lo intendiamo all'interno della formazione che abbiamo costruito, si pone proprio in tutti quei contesti, in questi contesti, come una figura di riferimento. soprattutto come una figura di riferimento nell'accompagnamento umano, nell'accompagnamento spirituale, come sostegno empatico, offrendo ascolto, visione filosofica, progettuale, esistenziale, umanità e compassione. Spero che mi possiate sentire, sì, continuate a sentirmi, ok. Allora chi non riesce a sentire credo che sia dovuto al fatto che ha dei problemi di connessione. E quindi si pone proprio in questa visione, proprio di una visione filosofica, progettuale, esistenziale. È un modello che appunto in quanto spirituale, quindi non necessariamente religioso, accompagna in modo trasversale, appunto rispetto a un credo religioso, politico o quant'altro. offrendo quindi una visione, prima di tutto, su un piano di stabilità etica, morale, esistenziale, progettuale e quindi aiuta nell'ascoltare, nel sostenere, nell'incoraggiare, nell'ispirare a prospettive altre, a visioni che aiutino proprio a vivere, a sostenere le criticità nella vita, attraverso una consapevolezza emotiva, attraverso una visione di senso, attraverso una presenza. molti autorevoli pensatori affermano che di fatto siamo entrati in un'epoca di disumanesimo o di transumanesimo. Cosa vuol dire questo? Ci puoi essere d'accordo o non d'accordo con alcuni pensatori? Allo stesso tempo credo che sia importante soffermarsi in una visione anche critica, in un senso positivo, in un senso propositivo. La critica è qualcosa di straordinariamente importante, è come dire la funzione più elevata dell'intelligenza la critica. Immaginate una persona che è priva di critica, diventa appartenente a tutto un modello appiattito, di appiattimento e quindi è una persona che subisce gli eventi e che non li affronta come c'è con presenza, con consapevolezza. Quindi è importante soffermarsi e capire cosa vuol dire disumanesimo, cosa vuol dire transumanesimo. Disumanesimo è tutto quello che riguarda la perdita di valori umani e quindi dei disvalori. Troviamo dei disvalori quando non c'è più empatia, quando non c'è più compassione, quando c'è allontanamento sociale, quando c'è separazione, quando c'è frammentazione del sapere, quando c'è frammentazione anche della visione prospettica della vita, di unione tra creato, creature, creatore. Tutto questo porta al disumanesimo, quindi all'allontanamento delle persone. L'altro giorno, l'altro giorno che in realtà era ieri, sì, ero in Piemonte e stavo facendo una passeggiata in una cittadina del basso Piemonte, molto bella, molto carina, alla quale sono molto affezionato poiché fondamentalmente vivo lì, a Quiterme, se potete visitatela, è carina, come una città molto antica, romana, e passeggiavo con la mascherina e ad un certo punto mi sono trovato su un ponte che divide la città dall'altra parte, dove c'è un bellissimo parco, dove normalmente gli acquisi vanno a passeggiare. C'erano persone che passeggiavano ieri, c'erano tanti ragazzi anche, devo dire, proprio nel centro di Quiterme, dove si incontrano. Ad un certo punto incontro una coppia, una coppia che sarà stata tra i 50 e i 60 anni. In quel momento, poiché passeggiavo, avevo oltrepassato la città, quindi andavo verso la zona dove c'era il parco, avevo abbassato un pochettino la mascherina per poter respirare con il naso. A un certo punto questa coppia mi vede e fa un gesto proprio di allontanamento, si ritira e dal loro viso ho visto paura, si mettono attaccati, eravamo sul ponte, si mettono attaccati al bordo e mi lasciano passare così, proprio irrigiditi. Nella loro faccia, all'interno del nostro percorso di studi, studiamo anche il non verbale, mi è arrivata paura, disorientamento, avevo la mascherina leggermente giù, me ne accorgo e la tiro su, li saluto e poi penso, wow, ho sentito allontanamento sociale, ho sentito paura, la paura porta all'allontanamento sociale, ho sentito ansia, mi è arrivato disorientamento, allontanamento, ho riflettuto su quanto oggi anche analizzando quelle che sono le statistiche che affermano che il 75% della popolazione vive nella paura e nell'ansia e quanto vivere in una situazione di questo tipo porti poi a incapacità di saper gestirsi e di saper gestire. E quindi pensando all'incontro di questa sera ho sentito l'importanza proprio di parlare di questo, del disumanesimo, inteso come allontanamento sociale, allontanamento umano, separazione, come frammentazione, come conseguenza di uno stato emotivo non noto, come non conoscenza. Nello yoga si dice avidia, avidia, avidia la non conoscenza, la non consapevolezza di sé, ignoranza, ma nel senso di non conoscenza proprio di sé, delle proprie emozioni, di quello che viviamo, di quello che viviamo dentro, di come poi rapportarci agli altri. E quindi, unito questo invece a tutto quel ramo e che porta ad un uso talvolta inconsapevole della tecnologia e che, secondo alcuni pensatori, può portare al transumanesimo, cioè a, come dire, a trasformare l'umano in qualcos'altro con un'elettronica pervasiva. E ve lo dice un ingegnere elettronico che ha studiato proprio l'ingegneria elettronica e l'intelligenza artificiale nei suoi anni precedenti all'incontro con il Centro Studi Baktivedanta. Ecco, se noi consideriamo questo, se noi consideriamo il disumanesimo, transumanesimo, il bisogno di attraversare i momenti di criticità della vita, della sofferenza, con consapevolezza, ecco che qui, in questo senso, si viene proprio a inserire la figura dell'assistenza spirituale, come una figura centrata, consapevole, perché soprattutto ha fatto un lavoro su di sé, è pronta quindi a dare un sostegno, ripeto, in modo trasversale. E quindi il modo trasversale significa che attraversa il credo religioso, perché davanti ha un umano, ha un'anima che necessita di ascolto, di sostegno, di empatia, di visione, di orizzonte di senso, di presenza, anche di silenzio, se vogliamo, perché la figura della persona che desidera aiutare sa anche stare in silenzio in molti momenti, non necessariamente, ci sono tanti momenti in cui non necessariamente è necessario parlare, ma è sufficiente stare, stare, essere presenti, stare nell'amore, stare nella compassione, stare nell'umanità. Ed è molto difficile questo, è molto difficile anche per se stessi riuscire a stare in silenzio, a fare ascolta, stare nell'emozione dell'altro e all'osservare quello che arriva a noi, nella sofferenza dell'altro e capire, sentire quello che proviamo noi e quindi riuscire a stare nella presenza del donare, magari anche nel silenzio o in una parola che possa aiutare, sostenere, ascoltare. Quindi è qui che si viene a porre questa figura, che leggendo anche diversi lavori, anche di, non soltanto di coloro che studiano la sociologia, ma anche di coloro che studiano l'economia, beh, pensiamo che possa essere una di quelle figure che siano molto importanti nel futuro, perché nell'era della tecnologia, nell'era in cui tutto diventa, tutto viene automatizzato e diventano molto importanti tutte quelle figure che possono essere creative, cioè che non si possono automatizzare. Perché tutto ciò che è automatizzabile sono figure che, state tranquilli, entro dieci anni, quindici anni scompariranno. E quindi è molto importante soffermarsi, capire come è così importante la creatività, perché ciò che caratterizza la diversità tra l'essere umano e la tecnologia è la creatività. Essere creativi, essere di ispirazione. Proprio durante il Natale mi sono soffermato con mia nipote a parlare, quindici anni, sta facendo le scuole superiori, e le piace molto il cinema. Evidentemente, entrando su Netflix, eccetera, ha acquisito delle capacità, devo dire, molto interessanti di conoscere i film. Le potete chiedere, l'attore X, lei vi sa dire quali film ha fatto, quali ruoli ha interpretati, è incredibile. Quindici anni. E io allora le ho detto, ma se ti piace così tanto, cerca di capire veramente come può essere, in che modo ti puoi formare, quindi, in quel ramo, in quel settore, in modo creativo. Perché guarda che le professioni del futuro sono quelle in cui è importante la creatività, è importante l'ispirazione. E lei mi ascoltava, mi ascoltava con molti interessi. E in questo senso, tutte quelle figure che riguardano la crescita personale, beh, io ritengo molto difficile vedere un automa che sappia accompagnare, sostenere nell'empatia, nell'umanità, nella compassione. Quello lo può fare un essere umano, perché sono le caratteristiche dell'anima. accoglienza, compassione, ascolto, benevolenza, misericordia, silenzio, sostenere, ispirare, motivare, sono caratteristiche dell'anima, sono le virtù dell'anima, non replicabili. perché arrivano da una dimensione altra, da una dimensione spirituale, non automatizzabile. Quindi per questo che, anche come Centro Studi Bactivedanta, offriamo, proprio come percorsi formativi, diverse percorsi di studi che aiutino proprio a trovare ispirazione, nuovi modelli con i quali porsi nella società, porsi in modo costruttivo, porsi per essere di esempio, porsi per aiutare, facilitare altri in un percorso evolutivo. Proprio come diceva Gandhi, sì, l'esempio che vorresti vedere nel mondo. Ed è un fatto che questo mondo materiale, di fatto, in questo mondo materiale, di fatto ci sia la sofferenza. Possiamo negarla. Possiamo forse, sì, forse si può negare, si può anche reprimere, si può anche sopprimere la sofferenza e quindi vivere in un mondo asettico, in un mondo astratto, fantastico, in cui ci costruiamo dei fortini, in cui ci costruiamo tante strategie di difesa per eliminare la sofferenza. Ma la sofferenza c'è, è proprio caratteristica del mondo materiale, perché il mondo materiale è in continua trasformazione, in continua modificazione. E quando il soggetto, in virtù di condizionamenti, di falsi identificazioni, inevitabilmente si identifica con ciò che non è, da lì nasce la sofferenza. Questo è un insegnamento centrale dello yoga e della tradizione indovedica. È un dato oggettivo. Questo è un dato oggettivo. Noi all'interno dei nostri percorsi formativi insegniamo che cosa sono i dati oggettivi, che cosa sono le opinioni, che cosa sono le emozioni, che cosa sono i bisogni, che cosa sono i valori. Ed è un dato oggettivo che l'essere umano nasce, cresce, evolve, si ammala, invecchia, muore. E quindi la morte come aspetto oggettivo della vita. Spesso durante i seminari racconto di un evento che ha caratterizzato il mio percorso come ricercatore. Ero un giovane dottorando all'Università di Genova. Stavo studiando le reti neurali artificiali all'epoca. E nello studiare le reti neurali artificiali studiavo i lavori di ricerca. All'epoca appunto c'era internet che si stava diffondendo. Diventava molto più facile fare ricerca. Perché prima dell'era di internet bisognava andare in università, nelle biblioteche. Bisognava andarsi a cercare l'indirizzo di quel ricercatore, scrivergli, dirgli di spedirti il suo articolo. Passavano dei mesi, era molto diversa la ricerca prima dell'era di internet. Aveva una certa velocità con internet perché la ricerca è diventata proprio iperbolica perché è molto più facile trovare dati. E così nella mia ricerca ho trovato un ricercatore che studiava anche lui le reti neurali artificiali al Massachusetts Institute of Technology negli Stati Uniti. Molto famoso. Tutto timido gli scrivo la mia prima lettera in inglese scritta a un ricercatore famoso che stava dall'altra parte. una delle mie prime email eravamo alla fine eravamo intorno al 97 direi 96-97 e gli scrivo dicendogli ho letto il tuo articolo ho letto il tuo lavoro molto interessante vorrei cercare di implementarlo ma tu scrivi questo ma sei sicuro di quello che hai scritto? Un po' ingenuo un po' sempliciotto ero perché scrivere così è un ricercatore di quella fama sei proprio sicuro di scrivere così? Perché insomma quello che dice è questo vorrei sapere e lui mi scrive caro Andrea è stato molto gentile mi ha risposto subito caro Andrea nella vita ci sono solo due cose di cui essere sicuri uno che dobbiamo pagare le tasse due che dobbiamo morire punto e poi dopo mi ha spiegato il suo lavoro è stato molto interessante come dire sì la ricerca insomma cerchiamo di fare il nostro io posso dire delle cose poi altri le possono cambiare altri le possono trasformare la ricerca nel mondo scientifico lavora su modelli i modelli non sono non è qualcosa di oggettivo i modelli valgono in un determinato tempo in una determinata circostanza ma in altri tempi in altre circostanze non valgono la nostra rappresentazione della realtà è una rappresentazione basata su modelli pensate per esempio la legge di gravitazione universale di Newton vale all'interno di un determinato contesto rappresentativo ma se noi usciamo da quel contesto rappresentativo non vale più quella legge valgono altre leggi quelli della fisica e della meccanica quantistica quindi in determinati modelli rappresentativi sono stati determinati contesti sono stati fatti dei modelli che ben rappresentano la realtà ma usciti fuori da quel modello certe leggi non valgono più bisogna generare altri modelli rappresentativi eppure l'essere umano è così convinto di conoscere la realtà avendola rappresentata con piccoli modelli rappresentativi ed è così sicuro di conoscere tutto che in realtà ha perso poi invece l'unica cosa certa della vita che è quella della morte e quindi che dobbiamo morire quindi come affrontare la morte questo professore me lo ha ricordato che l'unica cosa certa della vita è la morte quindi in un qualche modo mi ha ricordato anche a come viverla come la vivo come come la approccio come vive dentro di me perché è proprio la paura della morte dice lo yoga uno dei condizionamenti principali nel suo yoga sutra Patanjali parla dei pancha klesha pancha klesha pancha cinque klesha forme di sofferenze condizionamenti ciò da cui arriva la sofferenza e tra questi oltre a Davidia che è la non conoscenza l'ignoranza troviamo anche la falsa identificazione a smita troviamo anche l'attaccamento raga quando ci si attacca qualcosa e poi inevitabilmente lo perdiamo parla anche della repulsione che è l'altra faccia della medaglia dell'attaccamento attaccamento e repulsione sono due facce della stessa medaglia e parla poi della paura della morte cioè l'attaccamento alla vita intesa come paura della morte a Vinivesha quindi la paura come uno dei condizionamenti fondamentali principali che determinano le forme di sofferenza ed è proprio da lì che nascono secondo il modello dello yoga a cui facciamo riferimento i condizionamenti principali delle persone e oggi non si parla della morte ditemi chi parla della morte oggi chi è che ne parla chi è che parla di come vivere di come prepararsi alla morte di come arrivare a quel momento nessuno ne parla in nessun anzi si esorcizza con vari con vari aspetti con varie forme con compensazioni illusorie si fa questo ma non se ne parla eppure è così importante perché è l'unica cosa certa della vita e quando essa arriva quando arriva proprio quel momento così così importante ci si trova impreparati e allora quello che accade è che avvengono delle delle false rappresentazioni dei piccoli psicodrammi all'interno dei contesti nei quali si deve affrontare quel tema avvengono delle piccole o grandi falsetà si dicono delle bugie si dicono delle cose che magari non sono vere si fa finta si vive ripeto talvolta con insomma siamo nell'ignoranza così siamo stati educati e così facciamo abbiamo degli schemi rappresentativi ci sono degli schemi di rappresentazione e quindi talvolta con con un senso anche come dire non di cattiveria ma di ingenuità allo stesso tempo le conseguenze che che arrivano da vivere in situazioni di ambivalenza o di ambiguità relativamente a questo concetto portano poi anche a delle conseguenze perché magari portano a non dire delle cose rimangono dei non detti tra le persone quando magari un mi dispiace per quello che è avvenuto desidero chiederti scusa per favore è stato un momento di debolezza quello che è avvenuto nel passato adesso qui in questo momento sento il bisogno di chiederti scusa e di dirti che ti voglio bene sono quei momenti forti emotivamente che liberano che portano ad una liberazione invece vivendo in situazioni di ambivalenza di ambiguità di falsità di non autenticità perché non si è preparati a vivere la sofferenza il dolore e il momento del fine vita ecco che queste situazioni restano ed ecco che quindi diventa molto più difficile attraversare con serenità queste fasi inevitabili della vita e prepararsi al percorso della vita stessa che è continuità progettualità e quindi anche di relazionalità cioè la sofferenza si trasmette magari da persona a persona quando invece un nella nell'autenticità nella consapevolezza nel farsi carico con responsabilità anche vivendo il proprio sentire emotivo un aprirsi un dire porterebbe invece ad una grande apertura ad un'apertura importante ad un rilassamento all'amore proprio in un percorso verso l'amore verso il perdono ed è così importante quindi capire questi aspetti la figura di riferimento alla quale noi ci stiamo dedicando questa sera è proprio in questo contesto quindi si prepara in questo contesto in questa visione proprio per aiutare facilitare le persone a vivere nell'autenticità a diventare persone autentiche e quindi al di là dei condizionamenti delle false identificazioni diventare capaci di saper vivere di saper stare di saper sostenere di saper accompagnare di dare una visione progettuale di capire quando è tempo luogo e circostanza per dire delle cose oppure di non dirle è un lavoro importante è un lavoro interessante e il centro studio di Bhakti Nanta cerca proprio di farlo questo di farlo all'interno della filosofia della psicologia dello yoga la filosofia del Sankhya spiega proprio le diverse forme della sofferenza cioè proprio tutta una teoresi tutta una teoria il Sankhya è la teoria perché parla delle sorgenti della sofferenza la sofferenza arriva dice il Sankhya attraverso la modalità con le quali gli altri si rapportano a noi adibautica avviene attraverso aspetti che non posso sostenere come può essere uno tsunami come può essere un terremoto una pandemia adidaivica oppure avviene attraverso noi stessi come noi ci siamo costruiti i nostri condizionamenti i nostri falsi schemi i nostri schemi pregressi adiatmica le tre forme della sofferenza e lo yoga invece fornisce la prassi cioè fornisce tutta la parte pratica il maestro Marco Ferrini spesso ci insegna quanto sia importante lo stare insieme tra teoresi e prassi oggi nella nostra società c'è tanta teoria da capire quanto appropriata comunque teoria ce n'è tanta c'è poca pratica c'è poca prassi la pratica c'è come applicare ecco che il sistema Sankhya Yoga aiuta proprio tra teoria e prassi tra teoria e pratica e quindi come fare nostri i principi teoretici proprio per diventare persone autentiche consapevoli capaci di stare e quindi di portare un aiuto concreto a noi stessi e portare un aiuto concreto agli altri a chi soffre a chi sta nella sofferenza a chi ha paura anche di saper attroversare momenti di sofferenza e di dolore e a capire il fenomeno morte maestro su questo ha offerto nel corso degli anni tantissimi seminari soprattutto all'interno di un percorso formativo all'interno degli ospedali degli ospedali di tutta Italia nell'ambito dell'educazione continua e medicina proprio sulla psicologia yoga per l'assistenza ai malati terminali e ai loro familiari in cui formava personale medico paramedico proprio in questa visione teoretica trasversale spirituale ripeto piuttosto che invece che religiosa nel senso con il quale viene solitamente considerata proprio una visione filosofica esistenziale e si sono formati centinaia centinaia di persone quindi e qui potete quindi trovare chiedendoli a Centro Studi Bacchia Vedanta molti seminari su questo tema educazione continua e medicina se siete interessati e molti temi proprio sulla morte e il processo del morire sulla base di tutti questi seminari che il maestro ha svolto e sulla base anche dei test che sono stati costruiti nell'ambito delle scienze tradizionali dell'India e dei percorsi formativi in counseling che sono i seminari in presenza che noi svolgiamo durante i weekend abbiamo costruito proprio attraverso questi tre diversi percorsi delle scienze tradizionali dell'India dei percorsi di educazione continua e medicina ECM del maestro svolti presso gli ospedali e dei percorsi di counseling ecco qui che si forma questo percorso triennale dell'assistenza spirituale perché non si diventa assistente spirituale in una settimana ma neanche in un anno e vi dirò neanche in tre anni ma certamente in tre anni si ricevono le basi le basi fondamentali proprio per imparare soprattutto ad ascoltare se stessi e ad osservare come stiamo noi di fronte alla sofferenza di fronte al dolore di fronte al fenomeno morte quindi in questo senso per chi desidera diventare davvero una figura di riferimento oggi per attraversare la sofferenza beh occorre sì occorre coraggio per fare un lavoro su se stessi per imparare quindi ad attraversare la sofferenza il dolore capire cosa è la morte la paura della morte starci dentro attraversarla proprio per prepararsi a sostenere se stessi prima di tutto a fare un viaggio su di sé in compagnia di tante altre persone che compiono questo viaggio e ad attraversare e a diventare come dire capaci di aiutare gli altri aiutando se stessi io e gli altri nel gioco della vita ecco ho parlato di sofferenza ho parlato di dolore qual è la differenza che sussiste tra sofferenza e dolore è interessante questo è uno dei temi che affrontiamo all'interno dei nostri percorsi nei nostri seminari in particolare all'interno dei seminari del ciclo di seminari che ci sarà il prossimo anno nel 2022 da febbraio 2022 fino a giugno 2022 in cui inizierà con la funzione evolutiva del dolore che è uno dei seminari più importanti basati proprio su alcuni seminari su questo tema svolti dal maestro ricordo in particolare quello nel 2013 a Silea Treviso se volete segnarvelo la funzione evolutiva del dolore molto bello molto profondo molto importante e in questi seminari noi impariamo a capire qual è la differenza tra sofferenza e dolore una prima differenza la possiamo identificare sul piano fisico cioè il dolore è un qualcosa che c'è su un piano fisico mentre la sofferenza su un piano invece psichico ma non è soltanto così certo è così ma se andiamo ad una visione ancora più profonda possiamo osservare che il dolore è un qualcosa che appartiene che appartiene alla sfera umana ma il dolore rispetto alla sofferenza è caratterizzato dal fatto che nel dolore c'è consapevolezza nella sofferenza non c'è consapevolezza nella sofferenza ci sono tutte quelle dinamiche interne che si sono strutturate tutti quei fortini tutte quelle sfumature dell'io tutte quelle maschere dell'io che si sono strutturate e quindi c'è sofferenza perché è una sofferenza psichica nel dolore la persona è anche capace di attraversarla perché ne comprende la funzione evolutiva e la traversa forse che grandi personalità come Gesù di Nazareth o Francesco d'Assisi o Santa Teresa d'Avila o San Giovanni della Croce o altri grandi mistici non abbiano attraversato il dolore sì l'hanno attraversato con consapevolezza con visione proprio perché hanno attraversato quelle componenti distorsive che non consentono di vivere nella consapevolezza nella presenza nella conoscenza di sé e quindi il dolore lo si può attraversare la sofferenza allontana invece da saper sentire il dolore perché c'è una componente psichica c'è una componente distorsiva dovuta alle componenti egoiche che allontanano allontanano proprio da saper attraversare ciò che provoca dolore e quindi è per questo che è importante compiere un viaggio compiere un viaggio dentro se stessi un viaggio nella dimensione umana è per questo che l'assistente spirituale si pone nell'accompagnamento umano e spirituale perché aiuta a sviluppare pienamente il potenziale umano e spirituale che è il fine della vita che è la motivazione per la quale noi siamo qui cioè realizzarci come esseri umani come esseri spirituali opera una visione prospettica progettuale di orientamento verso la vita e in questo senso quindi l'impostazione è spirituale e quindi non necessariamente collegata ad un credo religioso la visione filosofica dello yoga è una visione appunto filosofica esistenziale e quindi valoriale si pone su dei valori che sono universali non necessariamente collegati ad un credo religioso certo laddove c'è un credo religioso ed è autentico poiché ogni religione nella sua autenticità si collega dei valori universali l'assistente spirituale accoglie accompagna in quella visione della persona che assiste perché la potenzia la valorizza nella sua visione prospettica valoriale etica morale quando posta su un piano proprio di progettualità e di visione su valori che sono assoluti e accompagna in questo senso sostiene proprio in questo senso quindi sentite perché abbiamo così bisogno di queste figure perché oggi abbiamo appunto perso la sfera valoriale oggi ci sono i dis valori che vengono considerati come valori quindi abbiamo proprio bisogno di fare una rivoluzione in questo senso cioè una rivoluzione valoriale una rivoluzione della coscienza ed è proprio in questa dimensione che si pone la figura dell'assistente spirituale così come l'abbiamo inteso come percorso formativo all'interno del centro studi bactile d'anta quindi un percorso su tre anni in cui si studiano delle materie e in particolari sei moduli che vengono studiate a casa e che sono collegati proprio all'aspetto filosofico esistenziale progettuale sul fenomeno sofferenza sul fenomeno morte sul fenomeno dell'accompagnamento sulla tema della psicologia yoga del ciclo della vita proprio per formarsi da un punto di vista teoretico sotto queste prospettive e sono poi inclusi dei seminari residenziali all'interno del percorso di formazione in counseling e quindi insieme ad altre persone che si formano in una modalità più generica l'assistente spirituale lo possiamo vedere come una specializzazione una particolarizzazione che si pone proprio in modo trasversale tra i percorsi di counseling e i percorsi sui testi classici dell'India e quindi sulle scienze tradizionali dell'India e quindi alcuni seminari tra quelli di counseling che sono più significativi proprio per questa figura professionale vengono seguiti vengono svolti e lì c'è la prassi lì c'è la parte pratica quindi i laboratori e quindi la condivisione e quindi l'importanza del sangha della compagnia del condividere le proprie esperienze dell'imparare ad ascoltare storie perché imparando ad ascoltare storie anche storie di sofferenza impariamo ad ascoltare noi stessi impariamo a stare nella storia all'interno dei nostri laboratori di counseling facciamo soprattutto questo raccontiamo storie e raccontandole impariamo a raccontare noi stessi e ascoltiamo storie e le ascoltiamo attraverso proprio una prassi quindi imparando a formulare delle domande a cos'è l'ascolto cos'è l'ascolto empatico naturalmente c'è tutta anche una procedura per ascoltare guidati all'interno proprio di un percorso che ha la pratica yoga intesa come guidare nelle meditazioni come un aspetto importante fondamentale per aiutare la persona a entrare meglio in connessione con se stessa e quindi a saper stare in una emotività nel saper stare in una visione quindi è un percorso integrato in cui si utilizzano i principi fondamentali dello yoga i principi fondamentali anche del colloquio del counseling quindi dell'ascolto attivo dell'ascolto empatico proprio in una visione di crescita di sé e dell'altro e quindi per questo è anche un counseling se vogliamo di comunità sangha sangha e comunità persone che stanno insieme che condividono in una visione di evolutiva e di crescita naturalmente ci sono degli esami c'è un esame finale quindi con un sviluppo di una tese c'è un esame di accesso alla tesi e all'interno anche percorsi di ascolto e di crescita personale quindi colloqui personali che si svolgono con un counselor proprio per mettere insieme la componente di sangha di counseling comunitario con la componente di crescita personale ecco questo e vedo che sono già arrivato alle 21.32 quindi il tempo davvero va via questo è un po' la caratteristica fondamentale ecco dei nostri percorsi formativi mi piacerebbe ricevere delle vostre domande e se volete potete farmela qui sulla chat e posso quindi rispondervi direttamente leggendo le vostre domande leggo per esempio che Barbara mi scrive buonasera quando provo a spiegare a certe persone che è importante prendere consapevolezza della morte per vivere meglio la vita mi viene risposto che proprio perché dobbiamo morire allora vale la pena vivere cercando il divertimento il piacere la soddisfazione materiale chiaramente non condivido questo modo di pensare ma non so cosa rispondere è proprio così comprendo bene Barbara quello che tu stai dicendo e ti ringrazio per l'averlo scritto perché ci aiuta anche a approfondire questo argomento ricordo i i primissimi anni quando ho incontrato il centro studio di Baktivedanta che aiutavo all'epoca vivevo a Trento e aiutavo a divulgare le conferenze quando Marco Fertini veniva a Trento e quindi andavo in giro per Trento nei miei momenti liberi ad appendere locandine nei negozi in giro per le strade ed era molto bello mi piaceva molto anche perché dovevo vincere anche un po' aspetti di me come per esempio la vergogna tra le mie emozioni di base c'è sempre stata la vergogna e quindi per me entrare in un negozio dire buongiorno vorrei lasciare queste locandine la posso appendere qui nel vostro negozio per me non era facile fare questo e quindi mi aiutava a farlo per vincere quella paura soprattutto perché lo facevo per un fine superiore e quindi questo mi dava forza per vincere quella paura e mi ha aiutato molto e ricordo che spesso quando portavo le locandine collegate proprio ai seminari di Marco Ferrini proprio sulla la morte il processo del morire sulla psicologia yoga del ciclo della vita entravo e dicevo vorrei appendere questa locandina posso farlo qui nel vostro negozio le persone mi dicevano di cosa parla di cosa si tratta e io raccontavo di quello che si trattava e quindi di una conferenza dove si parlava della vita e anche della morte e quindi come imparare ad affrontare la morte spesso mi veniva proprio detto ah mamma mia mamma mia no 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 per carità no 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 non voglio sentire queste cose io voglio pensare alla vita per carità non ne parliamo e io mi fermavo ascoltavo e mi ascoltavo soprattutto come stavo io di fronte a questa risposta cioè come arrivava a me nella mia visione condizionata di quel periodo quindi con una forte vergogna sentivo la vergogna solitamente insomma si muove nelle guance perché si diventa rossi si muove anche nella gola la vergogna si muove anche a livello della bocca dello stomaco e quindi imparavo a stare lì a stare in quella emozione quindi come prima cosa Barbara il mio incoraggiamento è imparare a vedere come arriva a te questa cosa cioè come ti arriva quando tu provi a parlare a un qualcosa in cui credi ad un altro e questo altro non lo ascolta o ti dà una risposta che ti arriva insomma che in qualche modo minimizza il tuo portato che in qualche modo minimizza quello in cui tu credi come ti arriva questo come lo vivi tu dentro quello è il primo punto da cui partire perché il primo punto da cui partire è come noi lo viviamo dentro e quindi quanto riusciamo a essere sereni e distaccati di fronte a una risposta come dire io vado porto un tema nel quale credo e magari vengo minimizzato ricordo la prima volta in cui condivise all'interno del mio gruppo di amici era il 2002 eravamo in un pub perché ero lì vivevo lì e mi capitava di andare nei pub con gli amici insomma e fare quello che si fa normalmente nei pub e ricordo che mi ero iscritto al primo seminario residenziale del maestro un seminario sulle 26 qualità del ricercatore spirituale era dicembre 2002 e io lo feci e uno dei miei amici nel gruppo disse parlavano di dove si sarebbe andati a capodanno seminario residenziale maestro questo era un di quei seminari residenziali che si fanno a cavallo dal capodanno dal 27 dicembre al 3 gennaio e avevo scelto quell'anno di trascorrere il mio capodanno così e quindi seguendo il seminario sulle 26 qualità del ricercatore spirituale e ricordo che al tavolo un mio amico mi disse dillo dillo dove vai a capodanno dillo avevi il coraggio di dirlo dove vai a capodanno quasi come a voler minimizzare anzi minimizzando la mia scelta e io lì senti una botta nello stomaco molto forte e presi coraggio e dissi vado a fare un ritiro spirituale silenzio silenzio nel tavolo vado a fare un ritiro spirituale sono molto contento qualche d'uno qualche battuta qualche d'un altro invece poi mi disse insomma come quello che andavo a fare e lì cominciai a comprendere anche come potevo orientare meglio le mie amicizie insomma rispetto a quello in cui credevo da lì cominciai insomma cominciarono anche un po' a cambiare poi le mie amicizie perché le amicizie si vedono anche in quei momenti in cui una persona fa delle scelte importanti e e quindi capì proprio lì l'importanza di sapersi ascoltare quindi come vivo quando una persona racconta un qualcosa e non come dire mi dà una risposta io mi aspetterei che mi non so se parlo della morte che la persona mi dice ah che bel argomento sì parlamene ma non è sempre così state tranquilli che su dieci persone le quali voi proponete questo argomento forse mezza vi ascolterà e vi chiederà di parlarne è normale quindi primo punto come vivo io la situazione e come mi pongo l'assistente spirituale si pone proprio fa un lavoro su se stesso da questo punto di vista e quindi lavora con le sue vergogne lavora con le sue paure le attraversa impara a starci dentro e fa un lavoro in quello che nello yoga viene chiamato vairagya distacco emotivo che è un aspetto essenziale fondamentale dell'assistente spirituale perché se l'assistente spirituale non ha il vairagya non può sostenere gli altri se non ha il distacco emotivo non può sostenere gli altri e il distacco emotivo è la base dell'empatia quindi all'interno del nostro percorso formativo insegniamo proprio questo questo aspetto che distacco emotivo ed empatia sono due aspetti che si integrano tra di loro non sono in contrapposizione perché lo yoga spiega proprio questo e quindi distacco emotivo e empatia e quindi capendo questi due aspetti imparerò piano piano a a fornire la risposta più appropriata a seconda del contesto magandogli magari facendo una domanda una domanda aperta nella compassione nell'amore magari chiedendo interessante raccontami se hai piacere cos'è per te la morte cosa significa per te divertimento mi piacerebbe sapere cosa vuol dire per te il divertimento in che modo si esplica il divertimento mi piacerebbe anche sapere da te in che modalità riesci a mantenere il divertimento come una base sostanziale della tua vita mi piacerebbe saperlo cioè che sostanza è la tua vita che diventa stabile che ti dà gioia stabile serenità stabile mi piacerebbe in che modo questo avviene hai piacere di condividerlo con me domande aperte nell'empatia non nel giudizio non presupponendo già di per sé una risposta ma nell'accoglienza quindi porre domande finché la persona si senta accolta se mi metto nella contrapposizione andiamo in una contrapposizione poi valoriale e quindi cercare di entrare nel sentire dell'altro l'empatia quelli che sono i valori ponendo delle domande la persona quando si sente accolta quando sente che sei nell'ascolto è più diventa più capace poi di ascoltare dei tuoi punti di vista quindi generalmente all'inizio occorre ascoltare l'ascolto attivo non porsi in in contrapposizione ma porsi proprio nell'ascolto attivo quando si stabilisce la fiducia l'ascolto empatico allora posso anche offrire una visione ti offro una visione ti offro un punto di vista prendilo come meglio credi e poi pensaci e poi magari ne riparliamo magari occorre altre occorrono altri incontri poi per capirsi per comprendersi è un processo le persone arrivano da secoli di condizionamento materiale da secoli di positivismo da secoli di nichilismo in cui si è allontanato il concetto di trascendenza di trascendenza e quindi di spiritualità ma in cui si è messa al centro la visione materialistica della vita e quindi ci si è allontanato da una visione invece prospettica filosofica progettuale che pure era la base anche della filosofia occidentale perché se andiamo a prendere i padri della filosofia occidentale quindi dai presocratici ma anche alla scuola di Atene osserviamo che c'era una visione ben più ampia dal punto di vista esistenziale e quindi perché no studiando anche Socrate attraverso Platone possiamo anche imparare a osservare come era così abile nel formulare le domande in quella componente maieutica anche con quell'ironia proprio socratica che non è di disturbo all'altro se invece l'ironia diventa come dire con quella vena acidula è perché forse dentro insomma emotivamente non siamo proprio sereni ci sentiamo magari minimizzati magari ci sentiamo che quella risposta che ci viene data dall'altro ci fa sentire inferiori non siamo stati ancora nel senso di inferiorità magari non abbiamo ancora elaborato adeguatamente dei sensi di colpa dei sensi di inadeguatezza e quindi questo è il lavoro che abbiamo bisogno di fare proprio per imparare poi ad accogliere proprio empaticamente l'altro dando tempo offrendo delle visioni sempre nello spirito dell'offerta la Bhagavad Gita insegna proprio lo spirito dell'offerta ed è questo che abbiamo bisogno di imparare a fare solitamente quando all'interno dei nostri seminari diciamo questo poi ci viene detto eh ma è difficile certo che è un viaggio è un viaggio proprio dentro noi stessi ed è proprio lì che come dire si misura e si intraprende il viaggio dentro noi stessi è un viaggio coraggioso per questo tipo di percorso corre proprio un viaggio un viaggio nella dimensione di se stessi Ida che saluto e che sta facendo con noi un percorso introduttivo nelle scienze tradizionali dell'India e appunto lo sta facendo perché poi in visione prospettica è interessata eventualmente a intraprendere questo percorso e scrive il percorso è molto interessante anche perché sento che la morte come un'amica ora però si può fare il percorso senza esami il percorso Ida guarda l'esame è una straordinaria opportunità di condivisione di ascolto di sé è proprio allora innanzitutto ho imparato attraverso i miei vari percorsi in università e poi all'interno del centro di Bacchia e Danta come il sapere che dovrò poi condividere il mio percorso con un'altra persona mi stimola a studiare meglio altrimenti si legge ma leggere e studiare è molto differente leggere è una cosa studiare è un'altra cosa e se noi sappiamo che dobbiamo fare una verifica una condivisione con un'altra persona studiamo non leggiamo e quando studiamo le cose ci entrano dentro e c'è una trasformazione se leggiamo soltanto è più superficiale e i nostri non sono esami come all'università io lo so che molti di voi arrivano di nuovo con dei condizionamenti pregressi da un modo di fare educazione appunto di condanna e di valutazione giudicante in un senso dispregiativo minimizzante non è certo questo lo scopo del centro studi che è quello di creare relazione e quindi condividere le nostre si li chiamiamo esami ma sono condivisioni proprio nella crescita e quindi desidero proprio rassicurarti e così rassicurare altri come te per esempio chi sta facendo il percorso di formazione in counseling e che magari proprio per lo stesso motivo ritarda a fare la tesi finale e desideriamo proprio incoraggiarvi a un viaggio dentro voi stessi nella condivisione con noi con noi docenti a parlarne e lì si interprete questo viaggio di conoscenza che aiuta poi veramente ad aiutare gli altri altrimenti le nostre paure come dicevo non note che non abbiamo affrontato che non abbiamo attraversato poi intervengono nei momenti cruciali nei momenti di difficoltà nei momenti di criticità della vita è per questo che il maestro Marco Ferlini ha voluto fin da subito proprio impostare un percorso con degli esami proprio in questa visione e a noi ci ha sempre detto e lo ricordo voi non siete dei professorini no è importante che attraverso il servizio che offrite diventare dei modelli degli esempi per poter accompagnare aiutare le persone che vengono da noi proprio in un percorso di crescita quindi per favore Ida e così anche altri tra di voi vivetelo proprio con questa modalità Rita mi scrive ho mia madre a casa allettata dopo un ictus ma lucido ha 83 anni continua a dire che tiene duro ma è molto difficile per lei fare assistenza non è la mia scelta generica ma in questo caso è nel mio dharma lei è paralizzata oltre il 50% da sei mesi circa e non ha prospettive di miglioramento non so come darle sollievo non è in condizione di recepire pensieri nuovi sulla morte grazie Rita per aver condiviso con noi grazie per aver condiviso la tua storia che ci arriva come una storia di sofferenza come una storia di difficoltà tra di noi ci sono diverse persone che possono aiutarti che possono darti dei consigli perché fanno anche un lavoro professionalizzante proprio in questo senso e magari io vedo per esempio qui Laura e sicuramente anche altri magari Laura se è piacere se te la senti la misura in cui te la senti puoi scrivere per dare dei suggerimenti da un punto di vista pratico di come dire sugli aspetti che sai di praticità perché ci vuole anche questo perché l'assistente spirituale orienta anche dal punto di vista di praticità dal punto di vista tuo Rita io ti incoraggio ad ascoltare se non riesci adesso naturalmente a intraprendere un percorso formativo di questo tipo ma ti incoraggio a pensarci intanto ad ascoltare dal punto di vista introduttivo degli ascolti di Marco Ferrini su libertà dalla solitudine dalla sofferenza per esempio che ha svolto diversi tematiche diversi seminari su questo su questo tema e appunto la funzione evolutiva del dolore ti incoraggio ad ascoltare questi seminari ascoltali lasciali andare perché ti aiutano a vivere bene nella consapevolezza questo aspetto perché qui ci sono due aspetti importanti uno su come noi riusciamo a vivere la situazione dentro cioè dal punto di vista emotivo da un punto di vista sostanzialmente e un altro da un punto di vista pratico aspetti di praticità gli aspetti di praticità Laura sono sicuro che ti può dare qualche orientamento o indirizzare sugli aspetti invece di come vivere dentro dal punto di vista emotivo e quindi come attraversare poi la situazione con un animo diverso ti incoraggia a intraprendere ad ascoltare a osservare a stare nell'ascolto a leggere questo ti aiuta molto a parlare anche con noi nella nostra scuola ci sono diversi counselor e assistenti spirituali che possono aiutarti in questo senso eventualmente mi puoi scrivere poi privatamente per fare dei colloqui specifici ecco sempre Barbara mi scrive non lo vedete perché l'ha scritto privatamente grazie Andrea effettivamente tendo sempre a voler salvare le persone immediatamente senza lasciare che ognuno faccia il suo percorso di crescita di consapevolezza ci devo lavorare esatto spesso appunto confondiamo l'aspetto di empatia con qualcosa che non è empatia ma che è collegato più ad un sentimentalismo più appunto a aspetti di come dire di sensi di colpa o a sensi di inferiorità ad aspetti egoici che si sono strutturati dentro e che quindi ci impediscono di riuscire a identificare quella che è la nostra responsabilità e quella che è la responsabilità dell'altro cioè a riuscire a trovare quel giusto confine e da riuscire a lavorare a trovare quel giusto confine di responsabilità che ci aiuta proprio a vivere e ad attraversare il dolore nella giusta consapevolezza quindi sì ti incoraggio proprio ad attraversare questo ecco a fare questo lavoro di consapevolezza di te ok mi ero dato 45 minuti siamo andati oltre spero che attraverso questi incontri io vi abbia offerto degli spunti sui quali riflettere sono conscio che l'argomento è molto vasto è per questo che abbiamo strutturato un percorso formativo di tre anni il 6 e il 7 di marzo ci sarà un seminario che se avete piacere potete seguire come prova e nel caso mi potete contattare il mio indirizzo email è a.boni a.boni chiocciolacentrostudi.net oppure potete contattare anche la segreteria del centro studi Bactivedanta segreteria chiocciolacentrostudi.net e vi possiamo quindi aiutare a fornire tutte le informazioni del caso proprio orientarvi a meglio crescere nel vostro percorso formativo grazie per essere stati qui per aver ascoltato questo incontro vi ringrazio tutti spero di vedervi presto e vi auguro una buonanotte a presto ciao a tutti buonanotte buonanotte a tutti e grazie grazie Andrea grazie grazie a voi grazie a tutti